La Baia di Quornero I dobloni si ottengono in diversi modi. Si trovano nei forzieri che compaiono periodicamente, nei campi di mercenari o uccidendo altri eroi che li trasportano. Raccolti abbastanza dobloni, la vostra squadra potrà consegnarli a Capitano Cuornero e godersi lo spettacolo di un galeone fantasma che scatena una pioggia di fuoco sulla squadra avversaria. Avere una visione globale della mappa ed essere sempre in movimento sono due fattori fondamentali da considerare nella Baia di Quornero. Tenete d'occhio gli avversari e anticipate nelle decisioni. Controllate se stanno raccogliendo o consegnando i dobloni, se stanno conquistando campi di mercenari o se puntano verso il vostro nucleo. Controllare i movimenti del nemico farà la differenza tra la vittoria e la sconfitta. Sarà l'avidità o la perseveranza ad avere la meglio nella Baia di Quornero? C'è solo un modo per scoprirlo.